E' un momento molto commovente, diciamo che siamo fortunati per chi vive qua a Valenza perché mai più avrebbe pensato di poter esserci e quindi è una bella possibilità. La signora è venuta con la sciarpa del mio presidente, non mi faccio solo piangere perché le lacrime le ho versate e penso tutte perché per me è mancato un fratello, un papà, tutto quello che poteva essere Berlusconi. Io l'ho vissuto dal primo giorno come capo responsabile della tifoseria del Piemonte, tutti i club del Piemonte, io ero responsabile regionale. Da quel momento in poi per me è stata una cosa, politicamente tutto, 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 tutto. Certo, non è tanto, lo so che non mi posso avvicinare né niente, però io so che sono qua e sono vicina. Come sono stata ieri davanti alla televisione a vedere i funerali, a piangere e a pregare, farò la stessa cosa oggi qua. Onestamente in questo momento io lo vedo veramente come ha detto l'arcivescovo ieri e lo vedo come un uomo al cospetto di Dio e quindi come tale secondo me ci rappresenterà tutti anche il paradiso. Grazie. Grazie a tutti.